ciao a tutti e bentornati sul canale nuovo video un po diverso dal solito non parleremo di ricette di cucina oggi ma bensì di ricette cosmetiche ossia delle formulette che potete preparare in casa per risolvere uno dei problemi che mi ha colpito maggiormente nell'ultimo periodo sto parlando della caduta dei capelli infatti questo mese è proprio il mese in cui i capelli cadono di più insomma si sa e quindi la maggior parte di noi avrà questo tipo di problema io ne ho sofferto per vari motivi un po lo stress un po tante altre cose non curavo bene i capelli non me ne prendevo molto cura e quindi i miei capelli si sono indeboliti tantissimo per cercare di risolvere questo problema ho utilizzato integratori shampoo proprio per la caduta ma nulla gli unici rimedi che mi sono serviti tantissimo e che mi hanno aiutato sono state appunto quelli fatti in casa naturali quindi ci vuole un po di pazienza però se seguite questi consigli sono sicura che vi aiuteranno tantissimo come appunto sono serviti a me ovviamente se avete una patologia se avete se la caduta dei capelli comunque è una cosa ereditaria purtroppo questi rimedi non vi aiuteranno alcuni sono un po più professionali tra virgolette e altri invece proprio casalinghi li potete fare con quello che avete nella nella dispensa e sono quelli che preferisco di più rimedio casalingo veloce che potete preparare davvero in un attimo è quello di preparare un siero che va messo prima dello shampoo ed è fatto con il rosmarino il rosmarino fresco quello che trovate nei campi o il rosmarino secco quello che trovate al supermercato purché sia rosmarino insomma prendete una pentola piena di acqua la fate bollire ci mettete all'interno una manciata di rosmarino fate bollire per altri min per altri cinque minuti dopodiché spegnete la fiamma coprite col coperchio lasciate in infusione fin quando si sarà raffreddato completamente una volta raffreddato togliete i rametti di rosmarino filtrate se ci sono ancora residui e mettete il liquido ottenuto all'interno di un contenitore a spray a questo punto potete mettere il vostro siero su tutta la cute massaggiare lasciare agire un 20 minuti dopodiché potete proseguire con il vostro shampoo abituale l'ideale in realtà prima di fare lo shampoo sarebbe quello di applicare una maschera oggi vi darò varie tipologie di maschere che potete preparare come vi dicevo con degli ingredienti che avete sicuramente nel vostro frigo o nella vostra dispensa partiamo subito da dal primo che è una maschera che si fa con l'olio di ricino l'olio di ricino è conosciutissimo per altri rimedi ecco però una delle sue proprietà principali è quella di rafforzare i capelli vi occorreranno due cucchiai di olio di ricino due cucchiai di succo di limone un uovo nuovo sbattete questi ingredienti all'interno di una ciotola andate applicarli sui capelli dopo aver messo il siero a rosmarino quindi già sono belli umidi le andate ad andate ad applicare questa maschera su tutto il cuoio capelluto fate riposare all'incirca 30 minuti dopo 30 minuti potete proseguire col vostro shampoo abituale quindi sciacquate molto molto bene i capelli procedete con lo shampoo e poi magari mettete il balsamo questa maschera è molto utile come vi dicevo perché rafforza tantissimo il bulbo del capello grazie alla presenza dell'olio di ricino ma non solo elimina il crespo idrata e nutre i capelli favorisce la ricrescita previene anche l'ingreggimento poi il succo di limone aiuta anche a pulire a fondo il cuoio capelluto e l'uovo nutre e rafforza i capelli quindi è davvero fantastica forse è una delle mie preferite passiamo a un'altra maschera perché magari chi non ha l'olio di ricino vuole provare qualcos'altro e io vi propongo questa quella all'uovo lo so fa un po schifo ma in realtà l'uovo è davvero uno dei migliori ingredienti per rinforzare i capelli vi occorrerà un uovo una tazza di latte due cucchiai di succo di limone e due cucchiai di olio d'oliva anche qui andate a sbattere tutti gli ingredienti insieme l'applicate sui capelli umidi lasciateli riposare 30 minuti dopodiché potete risciacquare meglio ovviamente incelofonare i capelli altrimenti cadrà tutto l'uovo le proprietà che ha questa maschera sono queste dona luminosità alla chioma riduce la caduta dei capelli e incoraggia anche la crescita dei capelli quindi magari per chi ha pochi capelli ovviamente non dovuti a una questione ereditaria ma per esempio dovuto allo stress ecco questa è un'ottima maschera passiamo a un'altra che è anche questa è una delle mie preferite la utilizzo spesso e dona un sacco di luce ai capelli è quella la banana vi occorrerà due banane mature un cucchiaio di olio d'oliva un cucchiaio di olio di cocco se non l'avete non vi preoccupate sostituite con un altro cucchiaio di olio d'oliva e un cucchiaio di miele stesso procedimento sbattete insieme tutti gli ingredienti però questa volta lasciato in posa solamente 20 minuti dopodiché potete risciacquare come vi dicevo questa maschera è ottima per donare un sacco di luce ai capelli ma non solo aggiunge morbidezza alle chiome riduce la forfora riduce anche i danni dovuti a magari l'utilizzo di piastre o di tinte e idrata un sacco i capelli ed è il motivo per cui questa è una delle mie maschere preferite oltre alla prima passiamo a un'altra tipologia di maschera che quella allo yogurt sicuramente ne avrete sentito parlare appunto di questa maschera allo yogurt e vi occorrerà un vasetto di yogurt un cucchiaino di aceto di miele è un cucchiaino di miele alimento sbattete insieme gli ingredienti però applicatela sui capelli solamente per 15 massimo 20 minuti essendoci l'aceto di mele le proprietà di questa maschera lo che ovviamente idrata i capelli li nutre a fondo e rafforza anche il fusto e quindi anche la rottura dei capelli sarà meno evidente ultima maschera fai da te è quella con l'avocado anche l'avocado come la banana dona un sacco di morbidezza ai capelli perché è grasso e quindi davvero i capelli risultano super super morbidi una volta utilizzata questa maschera vi occorrerà avocado maturo mezza tazza di latte un cucchiaio di olio d'oliva e un cucchiaio di olio di mandorle anche qui se non avete l'olio di mandorle non vi preoccupate sostituite con l'olio d'oliva collate l'avocado benissimo non ci devono essere pezzettini dopodiché aggiungete tutti gli altri ingredienti mescolate bene e applicatelo sulla cute per circa 20 minuti dopodiché potete risciacquare avocado idrata e nutre i capelli questa maschera riduce anche l'effetto crespo e rinforza ovviamente i capelli perché tutte le maschere che vi ho elencato comunque rinforzano il cuoio capelluto che è molto importante ovviamente se andate a fare anche un massaggio con queste maschere al cuoio capelluto ancora meglio perché andate a stimolare proprio la circolazione che è importante si sa per per evitare la caduta queste sono quelle che ho utilizzato nell'ultimo periodo non le utilizzate tutte insieme ovviamente magari una volta a settimana ho scelto una poi l'altra settimana ho scelto un'altra e mi ha aiutato tantissimo non vi dico che non cade manco più un capello perché è impossibile però giuro che ne cadono molti 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 di meno da quando ho iniziato a fare queste maschere allora vi dicevo che vi avrei fatto vedere anche qualcosina di un po' più professionale tra virgolette nel senso che potete crearvi in casa un siero fai da te con degli oli essenziali io gli oli essenziali li utilizzo tantissimo non soltanto per i cosmetici ma anche per prevenire determinati problemi come per esempio l'ansia l'insonnia oppure qualche dolore muscolare qualche dolore di testa dolore di pancia magari tiva digestione tutte queste cose io cerco di curarle con gli oli essenziali a proposito se volete un video dedicato su questo fatemelo sapere perché è molto interessante ed è molto utile perché andate utilizzare dei prodotti completamente naturali quindi non utilizzerete più medicinali che magari possono anche far male ma potete utilizzare questi oli essenziali che la natura ci dà e che sono davvero molto molto utili vi faccio un piccolo esempio poi chiudo per rendersi perché altrimenti usciamo fuori tema ho avuto il raffreddore in questi giorni e invece di anche mal di gola soprattutto e invece di prendere l'antibiotico per il mal di gola io ho preso una goccia di tea tree oil la mattina in un cucchiaino di miele e mi ha aiutato tantissimo mal di gola ha sparito in due giorni perché il tea tree oil è un olio essenziale che di natura nasce come proprio un vero e proprio antibiotico quindi se vi interessa questo argomento fatemelo sapere giù nei commenti così preparerò un video dedicato allora tornando a noi tornando alla caduta dei capelli vi dicevo che potete fare un siero in casa facilissimo i due oli essenziali principali da avere per la caduta contro la caduta dei capelli sono questi rosmarino e pompelmo questi due basta ce ne sono tantissimi altri che aiutano contro la caduta dei capelli ma questi due sono quelli principali che servono tantissimo basta preparare o un infuso di tè verde proprio le bustine che voi utilizzate da bere per farvi capire oppure semplice acqua distillata potete utilizzare quindi una volta creato questo infuso di tè verde andate a metterci all'interno 20 gocce di olio essenziale di rosmarino e 20 gocce di olio essenziale di pompelmo su 100 ml di liquido ne fate 200 ml basta raddoppiare la dose quindi invece di 20 ne mettete 40 di gocce mescolate agitate bene e l'ho utilizzato come come siero dopo lo shampoo quindi dopo che avete lavato i capelli avete asciugati mettete queste gocce diciamo di siero sul cuoio capelluto massaggiate e basta e già questi due essenziali aiutano tantissimo ci sono i rimedi che io ho utilizzato per prevenire la caduta dei capelli se conoscevate già questi rimedi fatemelo sapere giù nei commenti se non li conoscevate e siete incuriosite aspetto comunque i vostri commenti qui sotto io vi saluto vi mando un grossissimo bacio ci vediamo presto nel prossimo video ciao